Lui lo faceva sempre. Gianni Amane di Letta Leotta, il clamoroso retroscena sull'addio viene fuori solo ora. Gianni Amane di Letta Leotta si sono detti addio ma il gossip su loro due continua a soffiare forte. A lanciare la bomba è Alessandro Rosica, il paparazzo ed esperto di gossip conosciuto su Instagram come investigatore social che ha svelato presunti retroscena su questa love story in un'intervista rilasciata al settimanale Mio. Una voce che arriva proprio mentre l'attore turco sembra aver ritrovato la serenità accanto da un'altra donna. Gianni Amane infatti sembra essere molto vicino all'attrice Demetho Zdemir. Potrebbe esserci qualcosa fra loro, ma non voglio sbilanciarmi. Al momento si scambiano reazioni su Instagram, ma dai messaggi che si inviano anche sul cellulare non trapela nulla di più di un'amicizia. Sempre Rosica, qualche giorno fa, aveva sparato a zero sulla relazione più chiacchierata dell'anno, secondo lui il fidanzamento di Diletta Leotta e Gianni Amane sarebbe stato studiato a tavolino per finalità di marketing. Gianni Amane, in retroscena della storia con Diletta Leotta. E non è finita qui. Stando a quanto ribadito da Alessandro Rosica, Diletta Leotta e Gianni Amane sarebbero oggi in cattivi rapporti. È stata Diletta a dire basta, perché non ce la faceva più anche per l'atteggiamento di Ken. Lui ha uno stile di vita che in Turchia non sarebbe stato tollerato. Gli piace divertirsi, a volte è un po' eccessivo, e per questo il suo migliore amico e bodyguard nonché tutto fare gli sta vicino per prendersi cura di lui. Nell'ultima intervista a Verissimo Diletta Leotta ha parlato della separazione da Gianni Amane con occhi lucidi, lasciando intuire di provare ancora un sentimento per il turco. È stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine, così Diletta inizia a descrivere il suo rapporto d'amore. Diletta Leotta, ora lo sappiamo, è rimasta ferita dalle critiche sulla presunta relazione costruita. Io e Gianni Amane siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Un turco e una siciliana, un mix esplosivo. Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello.